Siamo con Lorenzo Bianconi, candidato sindaco a Caglio per la lista numero 3 per Caglio. Qual è la sua esperienza amministrativa? Sono stato consigliere comunale di maggioranza negli ultimi due amministrazioni di Molteni-Vittorio dal 2009 al 2019. Perché ha deciso di candidarsi a sindaco del Paese? Allora, dal momento che Molteni-Vittorio, candidato sindaco della lista Uniti per Caglio, ha deciso di rimettersi in gioco, ha contattato tutti quelli che hanno fatto parte nelle ultime precedenti amministrazioni, tra cui il sottoscritto e siccome abbiamo raggiunto un numero di adesioni al progetto superiore ad una lista, si è deciso di fare una seconda lista per evitare di escludere le persone a priori, questa lista si chiama per Caglio e decisione da parte del gruppo si è pensato di mettere me come rappresentante di lista. Ci spieghi brevemente il programma della sua lista? Allora, i punti principali del programma, diciamo che questo programma è stato condiviso e realizzato con la lista Uniti per Caglio come candidato sindaco Molteni-Vittorio e saranno quelli di portare a termine i lavori iniziati e già finanziati dalle precedenti amministrazioni, favorire il passaggio della gestione della casa di riposo Villa Dossel, poi saranno effettuati interventi di manutenzione delle strade e di messa in sicurezza, andando a sostituire i lampioni con l'illuminazione a fare a LED, il rifacimento del manto stradale dove necessita un intervento e il posizionamento di telecamere e dissuasori. Poi con ulteriori finanziamenti andremo a migliorare gli impianti del centro ricreativo con l'acquisto di nuovi giochi, zone di relax con ampliamento di tavoli e panchine e l'introduzione di eventuali campi da beach volley. Inoltre collaboreremo con i comuni limitrofi per il buon funzionamento della scuola dell'infanzia e dei primarie ed erogheremo un contributo per le spese di trasporto degli alunni delle scuole secondarie di primo grado già concesso fino al 2018. Infine massima collaborazione con la Procaglio e sostegno alla Corale San Gervaso e Protaso. In conclusione una presentazione della lista. La lista numero 3 per Caglio è rappresentata da persone che hanno fatto parte sia delle precedenti amministrazioni che da volti nuovi. Si tratta di una lista di affiancamento alla lista Uniti per Caglio come candidato sindaco Molteni Vittorio e di fatti come detto in precedenza ne condividiamo idee e programma. Ringraziamo Lorenzo Bianconi candidato sindaco a Caglio per la lista numero 3 per Caglio.